Sì, stiamo filmando, un po' per le penciarie, ciao, perché la storia è la storia, ciao, filmato backstage, Alexis, Alexis, questa è la scena finale, fai già vedere tutto, ragazze, ciao, backstage, la parte migliore nei camerini, ti sa come mai, ti piacciono questi qua un po' da bestia? Fatti vedere, la parte migliore, Laura, backstage, vieni, vieni quella luce, no, no, ti sta benissimo, il covoia, ti sta strabello, non si vera male sxτηuno atevvano 간fificata ed è per questo che mi hai fatto venire qua. Per fermarla? Per fermarla... No perché volevo vedere ثanti schiacci.